Oroscopo Paolo Fox domani 19 gennaio 2023, Astri del giorno. Indicazioni Oroscopo Paolo Fox domani 19 gennaio 2023 in amore, fortuna, studio e lavoro, previsioni astrologiche per ogni segno e le nostre stelle del giorno. Ariete l'amore può tonare nella vostra vita entro marzo. Toro la primavera vi vedrà alle prese con scelte molto importanti. Gemelli c'è una luna opposta oggi e domani quindi qualche conto sarà da rivedere. Cancro dovete recuperare anche energia fisica. Leone un po' nervosi perché pensano di non avere ricevuto un giusto compenso. Vergine è una settimana di riflessione. Bilancia c'è Giove in opposizione, Mercurio dissonante, sole un po' strano. Scorpione Oroscopo Paolo Fox domani 19 gennaio 2023 positivo, recupero netto, buona questa Gionata. Sagittario mettete in chiaro ciò che volete e cercate di regolare i conti entro questa data. Capricono qualcuno deve anche regolare i conti ma a livello economico bisogna considerare Giove contro. Acquario questo non è un periodo tutto sfavillante però le soddisfazioni non mancano. Pesci dovete fare una ricerca attenta perché probabilmente vi sentirete un pochino scarichi. Oroscopo Paolo Fox domani 19 gennaio 2023 per i segni 5 stelle in amore, fortuna e successo Toro-Mercurio è in aspetto interessante, ma n generale è tutta la situazione astrologica da qui a maggio che porta piccoli o grandi successi. Potete contare quindi su un ottimo cielo, su buone opportunità di successo. Non siate titubanti, questo è il momento di esistere, la primavera vi vedrà alle prese con scelte molto importanti. Acquario per l'oroscopo Paolo Fox di oggi dei fatti vostri questo non è un periodo tutto sfavillante però le soddisfazioni non mancano. Bisognerà badare molto ai sentimenti che per l'acquario rappresentano non solo un rapporto di coppia, ma anche l'amicizia quindi è un periodo di riscontri importanti. Ariete l'oroscopo Paolo Fox oggi dice che siete un po' sull'altalena, Giove è favorevole ma in questo momento ci sono delle tensioni da superare. Giove e Luna in aspetto intrigante dicono che avete delle soluzioni in più. L'amore può tonare nella vostra vita entro marzo. Scorpione l'augurio è che sia tonata la voglia di fare, soprattutto quando le stelle dall'1 al 6 gennaio ci sono state stelle e un po' pesanti per cui anche le coppie più forti hanno discusso. Recupero netto, buona questa Gionata. Capricono avete Giove dissonante ma con sole, Mercurio nel segno adesso le idee non mancano. Solo che ci sono degli oppositori, ci sono delle persone in questo periodo che vorrebbero vedervi messi in un angolo. Il Capricono scala la vetta lentamente. Magari rispetto a chi prende delle scorciatoie ma poi non cade. Voi qualsiasi cosa vogliate fare, ricordate che siete sulla strada giusta. Un po' di stanchezza è normale, ma forse qualcuno deve anche regolare i conti ma a livello economico bisogna considerare Giove contro. Gemelli per l'oroscopo Paolo Fox 19 gennaio 2023 c'è una luna opposta oggi e domani quindi qualche conto sarà da rivedere ma voi siete molto forti, tutto sommato anche più energici se volete realizzare qualcosa. Sapete bene che tra marzo, aprile e maggio dovrete mettere a posto dei conti, forse anche battere i pugni sul tavolo se c'è un contratto da rinnovare. Fosse per voi mandereste tutti a quel paese ma voi senza fare nulla non sapete stare quindi bisognerà trovare una via di mezzo. Cancro questa settimana siete stati ultimi della classifica segni di Paolo Fox. Ogni tanto siete ombrosi, quando non parlate, quando avete qualche dubbio, non solo siete pensierosi in quanto non sapete come uscine, mettete in imbarazzo molti che stanno intono e non sanno come agire. Se qualcuno è troppo protettivo con voi vi stancate, se invece vi abbandonano pensate di essere stati isolati. Cercate di mantenere la calma, questa settimana non vedete tutto in maniera grigia anche perché c'è un cielo da marzo che consentirà di ottenere un grande rilancio. Dovete recuperare anche energia fisica. Sagittario l'oroscopo Paolo Fox domani giovedì 19 gennaio 2023 dice che avere la luna nel segno significa mettersi in gioco però per giocare ci vuole una squadra. Ci vuole anche un oppositore e forse in questo momento alcuni obiettivi non sono ancora fissati. Alcuni ma non tutti sono forse preoccupati perché se c'è un contratto in scadenza, non hanno ancora delle certezze. Sfruttate l'onda buona di Giove che ci sarà fino al 15, mettete in chiaro ciò che volete e cercate di regolare i conti entro questa data. Segni 3 e 2 stelle in oroscopo Paolo Fox domani 19 gennaio 2023. Leone, luna intrigono che non riesce a salvare questo livore, questo desiderio di impegnarvi e vincere che supera tutto. In questo momento sono tanti i leone arrabbiati, un po' nervosi perché pensano di non avere ricevuto un giusto compenso. Adesso vedrete che soprattutto tra aprile e maggio chi deve rinnovare un accordo, conviene che stia zitto. Alcuni forse si sono sentiti messi da parte da persone per. Bilancia, per l'oroscopo Paolo Fox domani giovedì 19 gennaio 2023. In questo momento c'è Giove in opposizione, Mercurio dissonante, sole un po' strano. Bilancia rappresenta l'eleganza ma anche quella determinazione che sempre ci vuole nella vita. A volte anche voi siete agitati, anche voi in qualche modo sbattete pugni sul tavolo ma è molto raro perché quasi sempre cercate l'accomodamento e la mediazione. Alla luce dei fatti agli occhi degli altri talvolta sembrate deboli ma non è così. Bilancia offre il massimo rispetto per gli altri e vuole però ricevere lo stesso rispetto. Forse questo Mercurio dissonante, questo sole dissonante, questo Giove opposto rappresentano proprio la necessità di imporvi. In questi giorni qualcuno è anche arrabbiato perché riceve delle lamentele dal partner e che magari non merita. Quindi in qualche modo dovete difendervi. Pesci, l'oroscopo Paolo Fox 19 gennaio 2023 dovete darvi da fare anche se siete segni di acqua. I segni di acqua sono in genere all'apparenza molto calmi ma all'interno nascondono vortici e mulinelli. C'è una visione molto bella della vostra immagine ma vi sentite tormentati, forse non tanto per voi stessi quanto per qualcuno a cui voi tenete. Pesci ha la necessità di essere di aiuto agli altri, se vedete una persona che sta male, anche un animale, voi correte. Ma chi vi salva quando state male voi e avete qualche problema? In questi giorni dovete fare una ricerca attenta perché probabilmente vi sentirete un pochino scarichi. Vergine, è una settimana di riflessione o anche di controllo perché alla fine di dicembre hai avuto dei fastidi. Controlli di che genere? Ogni tanto la vostra vita va controllata. Ogni vergine in genere è previdente e attento ai dettagli, molto attento alle pulizie, avete una sorta di desiderio di allontanare da voi germi e batteri. È probabile però che dalla fine di questo mese con venere in opposizione dobbiate mettere in regola anche qualche rapporto con qualche persona che magari non è stata tanto sincera con voi.